Fai quello che ti ho detto, così, gira Francesco, gira, 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 voglio andare addosso, voglio andare addosso, aspettala, vai Rossi, aspetta la, sulle mani, a tutti a sedere, adesso, vai, Tozza Rozi, tozza, gira, così, a due mani, chiudi con le gambe, chiudi con le gambe, con le gambe, dai Rosy dai che è finita gira fra gira così 1,2, cacciavato dai così dai fra dai fra dai fra stava